Dall'analisi dei dati relativi agli interventi a sostegno dell'occupazione forniti dall'Inps regionale emerge che in provincia dell'Aquila la crisi non si arresta, anzi l'anno scorso è peggiorata rispetto al 2017. Infatti per l'intero 2018 sono state utilizzate 2 milioni di ore di cassa integrazione a fronte di 1 milione e 300 mila dell'anno precedente. In termini di beneficiari la platea è salita da 631 a 969 unità lavorative. Comparando la situazione tra le varie province si nota che quella dell'Aquila è più in sofferenza mentre nelle altre tre c'è un calo significativo delle ore di cassa integrazione. La provincia aquilana nella variazione percentuale 2017-2018 vede un incremento pari al 53,5% e il settore meccanico da solo ha utilizzato il 79,4% delle ore di cassa integrazione complessive. Un ulteriore allarme riferito all'utilizzo della tipologia di ammortizzatore sociale. Nel settore industriale la cassa integrazione straordinaria è aumentata di quasi un milione di ore nel 2018 con un incremento del 162%, uno strumento che potrebbe sfociare in eventuali licenziamenti in caso di mancata ripresa dell'attività lavorativa ordinaria. Ad indicare un aggravamento della situazione economica nella provincia aquilana sono anche i dati relativi alle richieste di disoccupazione nelle varie forme previste con un incremento di 2064 domande pari al 40,78%. Tutti i numeri, afferma il segretario provinciale della CGL Francesco Marrelli, che dimostrano come la provincia dell'Aquila viva una crisi economica, industriale e occupazionale senza precedenti. Urgono strumenti straordinari di intervento, vanno accelerati i tempi e le procedure per l'utilizzo dei fondi del 4% finalizzati al rilancio delle attività produttive, passando per un piano straordinario di investimenti in sanità, trasporti, infrastrutture e scuole messe in sicurezza del territorio, agevolazioni per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese.